La nostra valutazione sulle strategie regionali è positiva. Esse forniscono una piattaforma per una migliore interazione a livello regionale e trasfrontaliero tra gli stati membri dell'Unione Europea e i Paesi vicini, per promuovere la cooperazione, migliorare l'integrazione dei diversi partner politici. Ci sono enormi sfide in ballo. Penso per esempio alla strategia macro-regionale adriatico-ionica ed auspico una maggiore attenzione in tema di protezione della biodiversità, di mitigazione dei cambiamenti climatici, del trattamento dei rifiuti, di gestione integrata delle zone costiere. A riguardo trovo condivisibile il paragrafo 30, laddove incoraggia l'utilizzo di appalti pubblici verdi per stimolare l'eco-innovazione, la bio-economia, l'uso di materie prime e secondarie e quindi l'economia circolare, così da raggiungere livelli elevati di protezione della salute e dell'ambiente e a creare stretti legami tra produttori e consumatori. Di contro però ci dobbiamo opporre alla politica condiscendente della Commissione europea nei confronti delle multinazionali del gas che stanno devastando gli ecosistemi marini e costieri, favorendo gli affari delle lobby corruttrici e di paesi ditattoriali, come nel caso della TAP.